Le tematiche di Enzo spaziano dai paesaggi molto chiari, vividi, dell'impressionismo, passando da nature morte pieni di simboli, poi verso l'utilizzo delle maschere in forma grottesca, profonda ironia anche di Van de Sieckle, che lo porta ad essere molto critico verso la cultura della sua epoca, molto critico verso il futuro, in cui si vedevano già le prime falde che portavano poi alla guerra mondiale. Dunque in questo senso è un artista che prende molto distanza anche dall'ambiente accademico dell'arte, volgendo con le spalle a questo mondo. La pennellata di Enzo era molto vivida, molto veloce, quando dipingeva ancora in plein air, che poi si porta sia nella sua fase simbolistica, dove gli oggetti diventano molto più importanti, i motivi, va anche nel dettaglio ed è questo che lo porta ad essere da una parte un artista molto attento al dettaglio, ma anche una pennellata molto vivace, molto veloce, che poi si vede nella sua fase pre-espressionista. A fine degli anni Ottanta ci sono Van Gogh e Gauguin, l'uno che si interessa di arte giapponese, l'altro di arte tahitiana, ma nessuno aveva veramente in mente l'importanza anche di Enzo come grande interlocutore tra l'arte asiatica e quella occidentale. Diventa un interlocutore molto importante per artisti come Ludwig Kirchner o Emil Nolde, che guardano anche le arti esotiche. Van Gogh, che si è interessato anche all'arte giapponese, uno dei primi che introduce queste masche asiatiche in un contesto di pittura occidentale, e dunque lo fa proprio per questo motivo un artista lungimirante.